quando è finito quello di qui dirò quello lì canzone fammi ripeti brutto finocchio quello de ma lo sai ci vuole la liberatoria perchè ormai sono diventato un personaggio senti ma Massimiliano che è aperto sempre aperto Massimiliano chi? del fotografo a quest'ora no 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 ma lì stesso non è inferiore adesso va da agosto no mi ripetere mi vergogno no perchè ho da stampa un pallon po' di roba e se lei fa la nina adesso non dà la sabato mattina e la giuda no ora è troppo mattina chiuderà ci diceva che cosa? che ti vuole dire? no sopra di questo anche a te figlio non mi figlio l'ho t'hai preso? e allora il corso è scaduto tantissimo a genere volante il filmato ha perso l'interesse un bocco di tutto ce l'ho di preso fosse stata nuda ma le vestire o vado sennò si tocca mettere su YouPorn i video c'è YouPorn? esiste? esiste si allora lo metto ma si ma no di merda no anche perchè insieme ecco il mio vergogno oi oi grazie ma questo alliavi con queste manie di riflessa ma si diceva che cosa su il nuovo rapporto? il Vaticano? si che smetta oh la Caterina dammi sapere che ci sono sei persone che in Vaticano nello stato l'Africano guardano i miei filmati davvero? provati quale vado? quelli in due esterni davvero? non lo sapevi? no è vero eh ha trovati la paura cioè qualche fatto c'ho utenti in Madagascar, in Congo, in Tanzania, in Togo addirittura in Togo in Togo, in Isola Fiji in Azerbaijan, in Caterina, in Togo, a parte quello ma la tragedia allucinante è che praticamente il Vaticano a parità di popolazione come percentuale praticamente quasi tutti mi guardano cioè i filmati delle bestemme come vanno bene il Vaticano non vanno bene da nessuna parte bellissimo e chi l'ho sempre detto è vero questo è il mio piucchetti che gli altri ora si farà la pubblicazione ma in Pannonia? in Pannonia sono arrivati non lo so, ha detto l'Apo, non c'è la Pannonia e che l'è la Pannonia? la Pannonia è una regione di Nord, Lettonia, Estonia, Liduania, Pannonia e se muore anche uno lì lui si sa subito si sa l'informatrice ci sono rispondenti poi un'occasione tu non fai mai un video ma c'è un motivo perché? alla espressione c'è un motivo per cui non fai no? c'è un motivo io sono su da uno il maestro è di pinge io stavo proprio bene e non l'avevo pensionata allora torno male a casa, mi dispiace perché la fuga poi una faccia una volta dopo bisognerà fare come i maestri i vetrai a Murano uguale a che fanno? maestro che è incomodo per poter entrare tutto con i clienti, c'è la manfrina, non so se te lo sai no, non lo so, come funziona? si, il venditore praticamente ci bisogna caricarlo il maestro è scettibile, perché deve essere disponibile maestro che si vedrà di Murano maestro che si vedrà di Murano si, si, se la tirano diciamo, la tirano e tutto la sciuferaco ciao panesiorci ciao ciao saluta Massandro si ciao pesciutto e il mio figlio mio questo il violino lo modifica te, eh si fa vedere, ha le bellezze eh, è anche troppo via tra tre minuti divide basta, basta, ne fa troppo lunghi